Tenam fra club interessati ad Untelar. Gli Spurs hanno proposto al Milan un prestito annuale con diritto di riscatto già fissato a 15 milioni di euro. Nonostante lo Schalke resti favorito per l'ingaggio del nazionale olandese, secondo il Daily Mirror, ora anche gli Spurs stanno accelerando per garantirsi un rinforzo in attacco in vista dei prossimi impegni di Champions League. Harry Redknapp, che da tempo insegue Luis Fabiano nelle ultime ore, ha virato su Untelar, ideale sostituto di Robby Keane, destinato alla partenza. Ma il centroavanti olandese non è l'unico obiettivo del Tottenham, prossimo avversario dell'Inter in Europa. Piace anche Scott Parker, che però è molto vicino al rinnovo con i West Ham. Partito Javier Mascherano è confermato di Irk Kuit, il Liverpool cerca un esterno d'attacco. Su radar di Roy Hodgson c'è Atem Ben Arfa, del Marsiglia, inseguito anche dal Newcastle. Secondo il Daily Mail, fra Lazio e Roche Santa Cruz potrebbe inserirsi il Fulham. Mark Hughes, che aveva acquistato l'attaccante paraguaiano quando sedeva sulla panchina del Manchester City, ora lo vuole a Craven Cottage. Se la trattativa svanisse, i Gunners hanno già pronta l'alternativa, l'Andro del Lila.